Le grandi storie spesso partono da piccole cose. Nel nostro caso la storia che racconteremo parte da una racchetta, o meglio, due racchette, quelle che servono per giocare a tennis e a padel. E lo faremo in una cornice che racconta storie di questi due sport, ovvero il Monviso Sporting Club, che da 55 anni è un punto di riferimento per lo sport piemontese non solo. Se volete scoprirne di più, vi aspettiamo giovedì 30 novembre a partire dalle ore 20, qui alle nostre spalle, all'Arena Padel Campi 4 e 5 del Monviso Sporting Club. Tutte le informazioni nella descrizione. Non mancate! Grazie a tutti!